È positivo il bilancio del primo semestre del 2022 per quanto riguarda il turismo ad Arezzo. Lo confermano i dati monitorati costantemente dalla Fondazione Arezzo in Tour. Nel periodo gennaio-aprile 2022 sono stati soprattutto i weekend a far registrare la massima presenza turistica con un trend in costante crescita che ha visto un aprile da record seguito da un ottimo maggio e giugno. Rispetto al 2021 il sistema alberghiero registra nel primo quadrimestre un più 65%. Le presenze italiane si confermano importantissime, circa l'84% delle presenze infatti sono italiani, il 16% sono stranieri. Il sistema extra-ricettivo registra anch'esso un ottimo primo quadrimestre, addirittura con un leggero aumento rispetto al 2019 stimato intorno al 5% che ne afferma l'altissima competitività commerciale. Il dato di incremento di questo settore è confermato per di più dai mesi di maggio e giugno dove si stima un aumento sul 2019 del 10% e addirittura del 30% sul mese di giugno. Anche in questo caso le presenze italiane si confermano le maggiori, il 70% rispetto al 30% degli stranieri.